Abbiamo incontrato i sindacati dei lavoratori di Strada dei Parchi che sono molto preoccupati di questa situazione. Noi condividiamo questa preoccupazione, bisogna assolutamente tutelare i livelli occupazionali e anche il livello contrattuale che hanno questi lavoratori ottenuto nei decenni in cui hanno lavorato con Strada dei Parchi. Il passaggio ad ANAS ha delle superficialità che devono essere affrontate, intanto perché ANAS non ha lo stesso contratto e non tutto il personale viene garantito. Nel decreto c'è anche una nota sibillina che giustamente preoccupa i sindacati perché viene messo a punto un limite, nel limite delle esigenze e delle necessità di ANAS. Quindi non tutto il personale sarebbe oggi garantito nel mantenimento del posto di lavoro. Preoccupazioni che noi condividiamo pienamente, era uno degli argomenti che abbiamo sempre sollevato al Governo facendo presente che questa scelta di andare allo scontro duro con il concessionario avrebbe portato ad un contenzioso omicidiale di cui abbiamo già visto l'anticipo con la sentenza del TAR che nel giro di tre giorni ha fatto entrare e uscire dall'autostrada ANAS e Strada dei Parchi con questi lavoratori a guardare questo balletto di dirigenti e di management che da un giorno all'altro prende possesso degli uffici, entra e se ne va. Nel corso di un incontro video con il Ministro Giovannini ho posto al Ministro in persona questo problema, trasferendo a lui tutta la preoccupazione del territorio e dei lavoratori. Il Ministro continua a garantire che seguirà e che vuole seguire e che sta seguendo con attenzione tutta la vicenda. Io spero che questo si traduca in garanzie e certezze per i lavoratori ma soprattutto in garanzie e certezze per tutti gli abruzzesi che hanno diritto di avere un'autostrada sicura, efficiente e a un prezzo congruo.